Siamo in via Montenero, nella parte bassa, quindi più vicina a Corso dei Stefanis, comoda, in un bel palazzo. Non abbiamo barriere anche tettoniche, è un piano rialzato. Questo è l'ingresso. Allora, l'immobile si presenta completamente da ristrutturare. Quindi, ingresso, qui abbiamo la cucina. Ora poi vediamo l'affaccio. Qui praticamente siamo sulla via. Vedete, anche se è un piano terra rispetto al portone, è più rialzato e distaccato dalla strada, quindi è molto carino. Qui cucina. Poi, qui vi è una dispensa. Comunque comoda, essendo un immobile comunque piccolino, la dispensa fa sempre comodo. Qui grande bagno, che già che devi fare magari uno mette un bel box doccia, lo attrezza con lavatrice e quant'altro. Riscaldamento centralizzato con termovalvole. Le tapparelle, poi ora le sistemeremo, sono bloccate. Terminiamo con questa grande camera, sempre esposta sulla via. Quindi veramente un grande ambiente. Eccoci qua, stessa esposizione. Come dicevo, la tapparelle è bloccata, poi faremo sistemare due cose. Quindi, grande camera, ripercorriamo e terminiamo. L'ingresso, la dispensa, la cucina abitabile. Il grande bagno. E direi che l'immobile è terminato. Troverete tutte le informazioni sul nostro sito. A presto.